Sali, 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 sali. Dai, bevi un po' di tè qui con me. Lui le disse, mentre arrivava. La solle 9 e 59 in punto. Né un secondo prima, né un secondo dopo. Ci vediamo qui, capito? Insanone. Non faremo tardi, credimi. Quel posto è meraviglioso. Ascoltiamo un po' di musica. Attento! Allora! Ok, sta tranquillo. Non dirmi di stare tranquillo, non provarci, ok? Miai. Quella è la madre. È esagitata. Lo riconosci? Abu Fahad Ahmad Al-Wiswas. È un poeta famoso. Sto scrivendo una storia meravigliosa. Sarà un vero successo. Ci sto mettendo passione e orgoglio. Chi sei? No, chi sei tu? Sei in casa mia! Su, dammelo. Che cos'è? Che cos'è? Non troverai nessuno nel bel mezzo del deserto. Bocchene! C***o. Perché si dice... che i dromedari siano animali vendicativi? P. Ahí échale. Mamma mia. C***o.